Questo allenatore mi ha colpito fin dal primo giorno su un fronte, quello della comunicazione. Sai quanto ho stimato? Stimo e continuo a stimare l'italiano, ma siamo 3-0 su fronte della comunicazione. Palladino batte italiano 3-0. E più passa il tempo, più mi rivedo nella riflessione che avevo fatto a caldo di un palladino alla Montella. Cioè che con quell'arietta un po' sorridente, scansonata da guaglioncello napoletano, però te le dice tutte, non c'è una rosa da completare, ci sono tanti tasselli da sistemare. E ti dice che cosa fa Beltran, di Bilaghi, di De Gea. Cioè con grande franchezza, in modo molto diretto, molto chiaro ti spiega il suo calcio, strappandoti anche il sorriso quando lui dice che il braccetto serve per altre cose, in effetti, e non per il pallone. Quindi, se prima mi stava simpatico, ora mi sta ancora più simpatico, e quindi ora ho un motivo in più per sperare che poi il palladino, oltre che simpatico, oltre che diretto, oltre che tutte queste cose, poi dimostri di essere anche un grande allenatore.